Hey l'amanti del cinema, io sono la Vero e oggi guarderò il trailer ufficiale di Suicide Squad. A me Batman come supereroe piace tantissimo, ma soprattutto le persone che affronta, i suoi super cattivi. E non a caso ho una collezione di fumetti che si chiama Batman Arkham e ogni singolo volume è dedicato a un cattivo di Batman. Ma ora non divaghiamo, torniamo a parlare del trailer. Avevo visto il primo teaser e quello non mi aveva convinto molto. La DC Comics è molto puntata su fare supereroi dark, seri. E quando ho visto il teaser trailer di Suicide Squad che andava più o meno sulla stessa rotta, ho detto ragazzi sono i super cattivi di Batman, non fateli seri. Cioè... Quindi spero che questo trailer possa mostrarmi qualcosa di diverso, possa cambiare un po' la mia idea. E vediamo un po'. Allora, super cuffietto. Allacciamo le cinture e guardiamo il trailer ufficiale di Suicide Squad. E... Via. Ok. Già mette un sorriso sul viso il fatto che ci sia la canzone dei Queen sotto. Ok. Colori? Credibile. Oh, fantastico. Che cos'è? Prove di cheerleading? Oddio. Deadshot. E' uno che spara la gente. Lui è un coccodrillo e mangia la gente. Ok. Lui brucia la gente. Tu sei posseduta da una strega e lei è solo pazza. Come cosa? Devo uccidere tutti e scappare? Scusate. Le voci. Oh, scherzo. Non mi stavano dicendo questo. Questo è l'accordo. Oddio. Andrete in un posto molto brutto. Questo... Oddio. Fare qualcosa che vi farà ammazzare. Salviamo il mondo. Questo trailer è... E' fatto. Non vedo l'ora di mostrarti. Ah, già era il letto è quello lì. Questo trailer ha un'energia. Oddio. Oddio. Bello, bello. Oddio! Sul serio? Che accidenti avete che non va? Siamo cattivi. Siamo fatti così. Questo trailer... Questo trailer è una figata pazzesca! Oddio! Decisamente completamente diverso dal teaser che ho visto qualche tempo fa. Era troppo bello! C'era energia, c'era ritmo, c'era... C'era divertimento, c'erano colori! Incredibile! Il logo che colori! Vi rendete conto? È cambiato da così a così il trailer di Suicide Squad. Questo mi sembra il trailer di un film col quale ci si può divertire. Che si può essere intenso, può essere violento, però c'è ritmo, c'è energia, un'energia buona. Bohemian Rhapsody, The Queen sotto, è geniale per questo trailer. Gli dare... Sono presa troppo bene! Prima era un po' dai, vai, magari lo vedo, magari lo vedo, sarà un po' noioso, sarà un po' come meno still. Adesso no! Adesso non vedo l'ora che venga quest'estate. Non vedo l'ora di vedere quest'estate! Jared Leto di nuovo ricompare in questo trailer. Sembra un Joker veramente pazzo. Margot Robbie, che interpreta Harley Quinn, mi sembra proprio che si stia divertendo. Mi piace il fatto che siano andati più nella direzione del... Questi sono super cattivi. Uno sparafuoco, una tipa è posseduta da una strega. Quello è un coccodrillo! È un coccodrillo! Ha una cella su misura, versione palude. Mi sembrava di tornare ai fumetti che adoro. Questo è il trailer di Suicide Squad, come lo vedete. Posso solo sperare che il film sia altrettanto ben fatto, altrettanto divertente. Quindi continuate ad andare al cinema, un bacione e alla prossima!